Musica Si parte ufficialmente lunedì con un intenso mese di maggio per formarsi ed accedere alla qualifica di operatore di attività oleoturistiche e quanto organizzato dalla strada dell'olio extravergine Castel del Monte ad Andrea con l'importante partnership di Arturism e patrocini prestigiosi tra cui i Gal del Territorio, il distretto agroalimentare di qualità Puglia Federiciane e diverse associazioni di categoria. Visto che c'è tanta attesa, tanto interesse perché l'olio come il vino, come le prelibatezze gastronomiche diventino un modo di attrarre i turisti o di far venire escursionisti anche dalle zone vicine, ecco che questo avvenga in maniera professionale. Per fare questo organizziamo quello che mi pare sia il primo corso per operatore o elagio turistico in Puglia e lo facciamo con un parco di docenti di altissimo livello e un corso di formazione che non si sviluppa esclusivamente in aula ma implementerà anche attività sul territorio. Convolgimento che c'è stato anche nelle iscrizioni perché insomma c'è stata un'importante partecipazione. Certo, certo. Ci sono adesioni che vengono dal sud barese e dal foggiano. Questo è il segno che operiamo forse come primi nella nostra regione e quindi l'interesse per coloro che ci possono raggiungere sul territorio arriva anche da altri lembi della Puglia. Il corso che ha già riscosso un ottimo successo numerico ma che ha ancora qualche posto disponibile è rivolto ad appassionati del mondo elagio gastronomico ma anche a chi opera nel settore turistico e punta a superare un gap normativo che consentirà a breve di avere anche un albo specifico regionale degli operatori del settore. Spesso si parla di enoturismo ma non si parla ancora molto di olio turismo. La vicina Basilicata ha addirittura già un albo dedicato in cui ci si scrive come operatore olio turistico quindi è sicuramente una figura che si sta sviluppando, sta prendendo piede. Ieri la presentazione ufficiale del corso ad Andrea, un progetto in cui uno dei valori aggiunti è senza ombra di dubbio il corpo docenti. Alcune docenti saranno tenute da Fabiola Pulieri che è proprio l'autrice del libro che è a livello nazionale conosciuto sull'olio turismo. Poi ci saranno lezioni di marketing turistico, di accoglienza turistica, di organizzazione di esperienze in azienda quindi che poi possa essere l'azienda olearia piuttosto che l'agri turistica e così via. E poi c'è tutto il comparto dedicato proprio al settore olivicolo-oleario come assaggi di olio, tecniche di estrazione, coltivazione. Formarsi al mondo olivicolo ed oleario con attenzione però anche al marketing e all'accoglienza per scalare posizioni essenziali nel campo del turismo gastronomico e non solo in una terra che vive con l'olio verde quale settore trainante dell'economia ed una produzione invidiata in tutto il mondo. Abbiamo un prodotto assolutamente leader mondiale, lo posso dire senza tema di smentita al quale però non fa da contraltare una qualità ma soprattutto una offerta che si distingua e che approfitti di questa grande qualità del prodotto per poter ancora di più avere un fascino per chi poi viene da queste parti.